Myrta Merlino risponde a Fedez in diretta. La verità che nessuno si aspettava. Myrta Merlino ha iniziato con il botto la nuova edizione di Asterisco Pomeriggio 5 Asterisco, prendendo di mira Fedez con parole pungenti in diretta. La conduttrice non ha esitato a rispondere fermamente a quanto accaduto recentemente, mostrando chiaramente la sua disapprovazione per il comportamento del rapper. Nel corso della trasmissione, Merlino ha messo in scena una vera e propria critica nei confronti di Fedez, il che ha inevitabilmente diviso il pubblico. Alcuni sostengono la sua posizione, mentre i fan dell'artista potrebbero non essere d'accordo. Il motivo del disappunto risale a un commento fatto da Fedez durante una diretta su Twitch nel mese di luglio, dove aveva criticato il programma. Myrta Merlino replica a Fedez, parole pesanti contro di noi. Durante la sua apparizione su Asterisco Pomeriggio 5 Asterisco, Merlino ha ribattuto con decisione. Nonostante abbia trascorso un'estate intensa, Fedez ha trovato il tempo di occuparsi di noi, dicendo cose spiacevoli, soprattutto riguardo alla mia redazione. E siccome la mia squadra è sacra, voglio ricordare a Fedez una cosa importante. Noi cerchiamo di raccontare le notizie senza sconti e lo facciamo con tutti. Inoltre, caro Fedez, tu e tua moglie avete sfruttato i media durante i vostri tempi d'oro, quindi ricorda che i media esistono nella buona e nella cattiva sorte. Merlino ha concluso invitando il rapper a un confronto diretto, bisogna accettare i media. Noi continueremo a fare il nostro lavoro. E come sai, sei sempre il benvenuto qui. Se vuoi dire la tua, basta alzare il telefono e chiamarmi, e sarai subito invitato. La risposta di Merlino arriva dopo le critiche di Fedez su Twitch, dove aveva attaccato la squadra di Asterisco Pomeriggio 5 Asterisco. Meglio quello che fate qui su Twitch che quello che fanno Asterisco Pomeriggio 5 Asterisco. Loro hanno decine di persone che lavorano a quel programma, mentre voi siete soli. Sono almeno 30 a fare quella trasmissione di me Asterisco Asterisco Asterisco. Pensa quanto il pianeta soffre per produrre Asterisco Pomeriggio 5 Asterisco. Quanta elettricità sprechiamo per fare Asterisco Pomeriggio 5 Asterisco, punto la vicenda ha acceso un dibattito tra i fan del programma e gli ammiratori di Fedez. Creando una spaccatura tra chi sostiene l'approccio diretto e senza filtri di Mirta Merlino e chi difende il rapper milanese, noto per le sue prese di posizione critiche. La conduttrice ha dimostrato di non temere lo scontro mediatico, difendendo con forza il lavoro della sua redazione e ribadendo il valore dell'informazione che il suo programma cerca di offrire ogni giorno. D'altra parte, la presa di posizione di Fedez non sorprende, dato che il rapper è solito esprimere opinioni forti e non convenzionali, specialmente attraverso i suoi canali social. Tuttavia, le sue parole hanno sollevato interrogativi su come la televisione tradizionale e i nuovi media digitali possano coesistere in un panorama mediatico sempre più frammentato e competitivo. Mentre la polemica continua a infiammare i social network, resta da vedere se Fedez accetterà l'invito di Mirta Merlino a partecipare a Asterisco Pomeriggio 5 Asterisco per un confronto faccia a faccia. Un incontro del genere potrebbe segnare un punto di svolta, non solo nella discussione tra i due, ma anche nel modo in cui i media tradizionali e i nuovi formati digitali dialogano tra loro in un mondo in costante evoluzione. Stefano De Martino sperava in un debutto più positivo, ma dopo la prima puntata, l'ex marito di Belen Rodriguez è stato travolto dalle critiche. La polemica ha preso vita immediatamente sui social, dove molti spettatori hanno definito il comportamento di De Martino vergognoso e al limite della decenza, mentre pochi altri hanno cercato di giustificarlo. Tra i critici più accesi c'è stato anche il giornalista Giuseppe Candela, che ha espresso il suo parere senza mezzi termini. Candela ha scritto su X, capisco la tensione, sono mesi che vi agitate in modo scomposto. Ma se vi riducete a usare l'account che piace a dirigenti autori RAI, a tre quarti in particolare, dico solo che si capisce. È una mancanza di stile. Non ho detto di chi. Ma che lo è. La controversia principale è nata dal fatto che De Martino, all'inizio della puntata, non ha salutato Amadeis, il suo predecessore alla conduzione di asterisco affari tuoi asterisco. Poteva almeno fare un saluto. Anche Mirta ha salutato Barbara, in questo caso era doveroso. Hanno commentato alcuni spettatori. Altri hanno sottolineato, stendiamo un velo chietoso sulla damnatio memorie nei confronti di Amadeis, nemmeno un saluto o un ringraziamento. I commenti riportati da BC.it riflettono il malcontento generale. Non so di chi sia la colpa, ma dato che Amadeis è in salute e non ha fatto nulla di male, si poteva iniziare con un saluto a chi ha lasciato in eredità una Ferrari televisiva. Alla fine, De Martino ha menzionato Amadeis, ma solo quando erano rimasti i pacchi da 30.000 e 100.000 euro, dicendo, e come direbbe anche il buon Amadeis, soldi sicuri. Per molti, però, era ormai troppo tardi punto le reazioni del pubblico non si sono fatte attendere, e i social sono stati inondati di commenti critici nei confronti di Stefano De Martino. Molti spettatori si sono detti delusi dalla mancanza di rispetto verso Amadeis, un conduttore molto amato che ha segnato profondamente il programma asterisco Affari tuoi asterisco. Alcuni hanno persino ipotizzato che questa dimenticanza possa influire negativamente sulla percezione di De Martino come nuovo conduttore. Nel frattempo, la rete ha iniziato a dividersi. Da un lato chi sostiene che il giovane presentatore dovrebbe chiedere scusa pubblicamente, dall'altro chi minimizza l'accaduto, definendolo una semplice svista dovuta alla tensione del debutto. Tuttavia, l'assenza di un gesto di riconoscenza verso Amadeis, soprattutto in un contesto così rilevante, rimane un punto dolente per molti fan storici del programma. Mentre le polemiche continuano a montare, sarà interessante vedere se De Martino affronterà la questione nelle prossime puntate, magari cercando di riconquistare la fiducia di quel pubblico che, almeno per ora, sembra aver preso le distanze. Nonostante le critiche e le polemiche, Stefano De Martino avrà l'opportunità di dimostrare il suo valore nelle prossime puntate di Asterisco Affari tuoi asterisco. Ogni debutto porta con sé sfide e ostacoli, e questa prima esperienza potrebbe servire come lezione per il giovane conduttore. Ora, la sfida più grande sarà riuscire a conquistare il pubblico non solo con la sua professionalità, ma anche con gesti che mostrino rispetto per chi lo ha preceduto. Solo il tempo dirà se De Martino sarà in grado di far dimenticare questo incidente e guadagnarsi un posto nel cuore degli spettatori, proprio come ha fatto Amadeus prima di lui. La strada per il successo è ancora lunga, ma con determinazione e impegno, De Martino potrebbe trovare la sua strada e lasciare un'impronta significativa nel programma. Grazie a tutti.